A ECMA 2012 ci presentiamo la nuova linea delle moto anniversario per il 110 anniversario di Harley Davidson che ricorrerà nel 2013, le nuove colorazioni Hard Candy Custom, le due versioni nuove del 1200 Custom che sono la versione A e la versione B e ovviamente il CVO Breakout per la prima volta esposto in Italia in fiera. Le CVO sono le nostre top di gamma, sono moto speciali, in numero assai limitato per l'Italia. Quest'anno presentiamo il Breakout, è il nuovo CVO in assoluto, oltre ai particolari sulla verniciatura ha un motore di 1800 cm3, 110 cubic inches, Screaming Eagle, quindi con le nostre parti speciali che migliorano le performance e la qualità generale della motocicletta. Grazie a tutti.